Ben ritrovati come è stato, un saluto a tutti, vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like, a iscrivervi da questa parte, attivate la campanella, notizia clamorosa, mentre c'è anche mia figlia che ha proprio così, lei già lo sa, esonerato José Murigno, spieghiamo subito che questo non è Milanello, un canale in cui parlo un po' di tutte le notizie più sorprendenti, la Roma ha comunicato l'esonero effetto immediato di José Murigno e dei suoi collaboratori, fatale la sconfitta per 3 a 1 con la Roma in cui Murigno ricordiamo era in tribuna perché era stato squalificato, gara di fatto senza senso a parte insomma quando Calabria ha procurato il calcio di rigore, José Murigno quindi viene esonerato a pochi mesi della scadenza, addirittura qualcuno qualche settimana fa parlava di un rinnovo con la Roma, che lui voleva ma che il club a giallo rosso invece non aveva mai preso in considerazione, vedremo a questo punto chi sarà il nuovo allenatore, con Tiago Pinto che lascerà a fine mese, arriverà un nuovo DS e quindi anche un nuovo allenatore che potrebbe essere Daniele De Rossi, vediamo se prende quota questa ipotesi, per José Murigno insomma lascia la Roma con una finale di Europa League, una vettora di confidence ma non è mai arrivato in Champions League e credo che in campionato i risultati siano stati peggiori rispetto alla guida precedente con Fonseca che aveva fatto, devo dire, meglio. Murigno che ormai si è fatto espellere credo sette volte, ha perso diversi derby, ricordo un po' in questo senso Pioli, ma in Champions quest'anno lontanissimo e quindi decisione credo non di Pinto, perché sta per uscire ma dalla proprietà americana, di sollevare dal suo incarico José Murigno e suoi collaboratori. Chi arriverà, forse De Rossi, vedremo, ditemi che ne pensate, per me non è un ex, però è molto bollito, i risultati, le dichiarazioni, le scene lo dicono. Apertamente, commentate numerosi, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, attivate anche la campanella, grazie per chi si è già iscritto, grazie per chi si iscriverà nel corso di questo video. Un saluto a tutti e a presto, notizia davvero comunque clamorosa, così oggi, ciao!